Un accosto disumano, grande cortecchia al capitano e un due sponde da incorniciare, baci il gladiatore da Livorno è atterrato e Luca D'Ambra il carro armato pantaloni neri e mucassini, la classe di Sandri è il più bel gioco che c'è, ma se vinciamo dal bussecchio mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino, ehi, quante emozioni che il biliardo ci dà Di fianco, e faremo naturalmente delle passate, un altro spareggio tanto parte con un 4 massimo musicali il biliardo di fianco, Jacopo Taglioli e Luca Franceschini contro Angelo Corbetta e Pino Di Simone Le altre due spareggi non raggiungibili, almeno per il momento dalla camera Sauro Casadei Salvatore Lottito contro Roberto Berlicchi Daniele Pasi e, al lato opposto della sala Valentino Cristoforo e Claudio Leonardi contro Luca Beneventi e Claudio Gualandri questi sono i 4 spareggi per essere ammessi ai quarti di finale Allora, inutile dire che partita sarà, che partita non sarà qui si incontra, si incontrano quattro giocatori che forse hanno fatto quasi tutti la storia del biliardo forse un po' meno Massimo Cicali ma diciamo che nel recente è entrato spesso nell'Albodoro del vincitore o nel non-Albodoro del secondo quindi un altro giocatore di categoria super potrebbe tranquillamente essere nei master non lo figurerebbe e penso che prima o poi ci andrà intanto andiamo a vedere la bocciata di Angelo Corbetta filotto di prima 10 punti alla fine bisognerà segnare anche punti di colore, presumo 12 punti brutta abitudine quella di non segnare mai l'abbiamo visto parecchie volte 2 o 3 volte ma sono già troppe le volte devo dire la verità ultima per Maurizio Toffoli intanto salto di castello a sembra che passi liscio assolutamente largo coca malapena il gioco è stato anche fortunato diciamo salto di castello a andiamo a vedere questo tiro di Jacopo Taglioli è molto larga la sfiora pena rimaniamo qui perché c'è la misurazione nel bilionario di fianco e ci sarà il replay del tiro Taglioli vediamo se aggiusterà la mira la palla è sempre lì molto larga anche questa sembra la caricata di più si ma stavolta è ugualmente larga accaressa tutti e due i birilli purtroppo quel che è peggio che non prende il punto e dopo saremo 3 contro 0 per Pino De Simone e Angelo Corbetta facciamo due si non l'avevo visto perché ero impalato dalla testa di uno spettatore certo intanto andiamo a vedere questo tiro di Marco Merlone un tiro di taglio che non riesce ma era molto complicato vediamo se riuscirà a fare uno dei suoi tiri e con un mezzo salto di castello a risalire vediamo eccolo qua questione di un cappello sbaglia sullo stretto ma diciamo che sbaglia dalla parte giusta per non correre i rischi intanto registriamo uno zero di Valentino Cristoforo la bocciata quasi una notizia mentre Enrico Rosa solo due due punti quattro pari vediamo questo tiro di Angelo Corbetta è molto difficile alzare il pallino a cavallo della mezzeria per realizzare otto di colore non ci sembra per niente brutto vediamo quanto si alzerà il pallino se raggiungerà la mezzeria sarà forse rimasto giù per un cappello se no era un otto di colore a questo punto probabilmente solo cinque cinque sono 17 a 2 angelo Corbetta la bocciata per provare già un primo allungo lo metto di prima solo due torniamo da no non torniamo perché viene richiesto di nuovo la misurazione no si si viene richiesta la misurazione quindi rimaniamo al biliardo a quattro Luca Franceschini all'accosto con il tre sponde tanto c'è il match ball per entrare nei quarti di finale per Pugelli credo che di nome faccia Massimo mi sembra di ricordare non me lo ricordo adesso vado a verificare posso dire che è di Prato vado a vedere un attimo solo Massimiliano mi sono andato vicino vediamo se chiude nulla di fatto troppo violenta la bocciata 4 punti 7664 e gli avversari sono a 64 quindi potenziale tiro per vincere la partita torniamo da Enrico Rose e Marco Merloni terza biglia per loro risponde largo a risalire sotto il pallino di misura lamorosamente direi corta corta però potrebbe potrebbe aver realizzato il punto richiesto ancora una volta la misurazione noi torniamo da Luca Franceschini dall'arbitro tanto è stato inquadrato Paolo Vitello per la prima partita ha incontrato Fabri e Magnani quindi ultima biglia per Maurizio Zoffoli grazie a tutti c'è un tiro nella partita diciamo anche rocambolesca andiamo a vedere se il duo toscano riuscirà a far partita c'è un pallino indirizzato verso i birini attenzione che sembra buona e chiude sembrava impossibile portare in porta una partita dove sul 40 pari hai bevuto 20 ma c'è anche questo nel biliardo ricco rosa la bocciata momento di seconda passata via in avanti e c'è il 10 c'è proprio il 10 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 trasponde a risalire, attenzione a non essere larghi in questo tiro e naturalmente è largo, era il problema di questo lancio della palla terza biglia tocca a Marco Merloni 3 contro 1 per la coppia ancora per poche settimane al circolo dello sport a costa Massimo Cicali segna, costringerà Marco Merloni all'ultima improvvisamente Corbetta decide di attaccare la biglia in mezzo al biliardo sulla bocciata di Franceschi e ricordiamo che siamo 19-14, non siamo all'inizio c'è anche il tiro di Veneziana che mi piace molto, vediamo se lo farà direttore di Veneziana non lo fa di schiaffo alla fine, attenzione al radrisso, nulla di fatto siamo andati tutti bene scolpita, praticamente presa in una porzione scarsissima torniamo al nostro campo centrale che vede i titolari delle biglie bianche con puntolore, due palle in mano lui che è un maestro in questi tiri tra l'altro lunga corta non semplice molto chiuso ma siamo sempre lì tirando ancora attaccabile la biglia ma molto difficile anche stavolta assolutamente molto difficile scolpirla un terzo, forse un quarto di porzione prendere quella biglia lì per fare i biglili bianche praticamente sbagliarla vediamo Maurizio Zoffoli se la sbaglia nel modo giusto infatti la sbaglia spettacolare nel modo giusto grande tiro di Maurizio Zoffoli tiro d'applausi due bianchi otto punti più due punti di colore grande tiro di Maurizio Zoffoli che se gioca così si candida si candida e non dico altro Massimo ci cade la bocciata per il sorpreso brillo di prima altro biro laterale attenzione rientro 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 che non porta ad altri punti comunque sono quattro punti 18 a 15 dicci Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a vedere Luca Franceschini con la classica bocciata da sinistra Filotto di prima Siamo 25 a 19 per Franceschini-Taioli Tanto altro tiro d'applausi di Maurizio Soppoli Réplica Bellissima Marco Merloni Grazie a tutti Grazie a tutti Punto non facile da prendere Ma attenzione che però c'è anche il progetto di Otto di Colore Sì bisogna prendere un 42esimo della palla bianca e schizzarla con la spinta giusta Che rimanga nello spigolo e la tua va a morire a sponda Ma i due signori che stanno confabulando C'è solo quel tiro Certo Ma quei due signori mi sento che ci possono riuscire Ne vediamo Va con il trasfondo Attenzione Attenzione Niente brutta Niente brutta E voilà Applausi di Colore da Cineteca Ha tirato Marco Merloni Ha tirato Marco Merloni Uno dei più bei tiri che abbiamo visto nel sabato e domenica Certo ma con questi giocatori Ne possiamo stare sicuri Enrico Rosa ripagato da un 10 Si sente che deve ringraziare il compagno E gli dà un bel 10 C'è il primo parziale violento del match 34-18 Rosa Merloni Ricomincia Massimo Cicali con il 3 sponde Naturalmente l'imperativo è coprirsi Cosa che avviene Puntualmente Tanto sotto pressione Cristofori e Leonardi Che sono partiti 22-0 Ma adesso sono sotto 42-22 Gualandri ha deciso di tirare tutti i palini liberi E per adesso Tutti su per il cascato Esatto L'ultimo dei quali Abbatte il rosso Mentre 41-29 Lo Tito Casadei su Berlichi Pasi Ancora giovane la partita Franceschini Taglioli Corbetta De Simone I primi conducono 25-19 Ricordiamo si gioca per entrare nei quarti di finale Buon tre sponde massimo Cicali Ma 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 C'è un tiro Che però non viene effettuato C'è un due sponde Di accosto Per cercare di chiudere Ti faccio una domanda Se Forse è stata una partita A singolo Avrebbe fatto lo stesso tiro Marco Merloni Ma Naturalmente Fa parte del nostro gioco Avere Più di una possibilità Ogni mano Bisogna aspettare il momento giusto Tante volte Tante volte si sbaglia Tante volte si prende Luca Franceschini Intanto Alla bocciata Bierillo di seconda Due punti Vediamo se cala il bigliardo Direi di no Rimangono due I punti di bocciata 30-19 Alla bocciata Tiro di taglio Di Maurizio Zoffoli Deve entrare Fra le due rosse Scivola via Veramente una combinazione Non fortunata Assolutamente Questo è stato Un colpo Non fortunato Tanto andiamo a vedere Se ci sono aggiornamenti Da Perugia Per i campionati Italiani Di seconda categoria Sempre a coppia Naturalmente Possiamo dire le otto coppie Finaliste Capriotti Santoni Di Rimini Zanardi Muzzarelli Bologna Cicognani Gianni Ravagli Loris Forlice Esena Fornasari Marani Bologna Ferri Beleggia Ascoli Morini Albicocco Ravenna Mallaspina Piras Una mista Spezia Genova E Sandoni Rubini Bologna Questi sono gli accoppiamenti E le otto coppie Finaliste Ai campionati italiani In corso di svolgimento In contemporanea Alla Sala Il Kiwi Di Perugia Sta litigando Con la bocciata E quel che è peggio Che sotto 5426 C'è stato un altro 12 Probabilmente in giro Per il biliardo Che non abbiamo Colto Perfetto Bravo Merloni Altra palla Stupenda Sembra tutto facile Ma non è così Due punti Che avevo avuto Per l'impallo Che avevo avuto Indeciso sul da farsi Massimo Cicali, alla fine tiro più logico, noi intanto andiamo da Luca Franceschini che penso che sia il terzo problema consecutivo, 32-19 il vantaggio, c'è il 10, forse Lamplein che arriva puntuale, 44-19, scappano via i due ragazzi di Settecrociari. Grazie. Grazie. Spondabilia se ho ben visto, due punti. Ormai c'entra, anzi direi che è bellissimo anche così, due punti trovati veramente non si sa dove, prestazione straordinaria, Marloni che si tira tutta la perfezione, non mi meraviglio. La verità è che è maestro. Intanto il brusio che sentiamo perché credo che Claudio Leonardo aveva lasciato un punto non impossibile e quel che è peggio, Claudio Gualandri va sul 56-26 alla bocciata, forse per uccidere la partita, ma vediamo Marco Merlone, attenzione, al pelo benevolo, due bianchi. E piano piano se ne vanno. 49-18, mentre Claudio Gualandri 10, anzi 12 e siamo 68-26. Mamma mia. Salvatore lo titolo non inquadrato, quattro punti davanti, diventano 12 quindi 69-29 su Verlecchi e Pasi. Tanto c'è l'ultima biglia per Merloni e Rosa che stanno meditando un lunga corte di pallino, quasi a scagliarlo per mandarlo sul castello e magari portarlo vicino alla rossa in basso. Vediamo. Entra troppo, ma diciamo che in qualche modo... Adesso ci sarà il trasponde di quella rossa a destra e si è colpita, si spiera anche per i birilli perché siamo già in ritardo, ma se prese per i birilli dopo gli otto di colore non sono per niente difficili, basta abbassare quella bianca sulla sinistra, entra molto, attenzione al pelo, scappa via e adesso se il punto è bianco ci sarà lunga corta di quella rossa qui in alto a destra. Spinta controllata, solo per il castello, al massimo 10 cm dopo il castello. è molto importante per la coppia del circolo dello sport trovare un 12, un 8, un 16 è quasi impossibile da quella posizione, però... ci si prova... lunga corta... Ancora sfiora l'insieme dei birilli, ma punto è zero, uno di colore, brutte notizie per la coppia del circolo dello sport. c'è massimo ciccari alla bocciata, si cerca il pieno. 4 punti, attenzione al rientro, questa volta c'è il 12, e c'è il 12, 32, 49, di mezzo del gap, su Angelo Corbetta, 44,25 sotto, rimpalla trova 4 punti, benevoli. se non viaggia ancora verso i birilli, probabilmente sarà un altro birillino. Così a 6 punti, 31, 44. Stiamo qui perché ci potrebbe essere una mano interessante. Sento che Jacopo Taglioli tirerà pallino. Franceschini gli sta dicendo di... Lo tirerà sapendo che il suo bersaglio è Angelo Corbetta. Sì, però Franceschini, se hai fatto caso, gli sta dicendo di coprire invece. Lui invece vuole andare. Vediamo... La spinta non mi è piaciuta, devo dire la verità. Il tiro è perfetto. Il tiro però è perfetto, c'è il birillo rosso. E siamo... 60-31. Giangelo Corbetta starà pensando, come questi tiro li devo fare io? Esatto, ti stavo proprio per dire la stessa cosa. Quando sei uno specialista di un tipo di tiro, di un fondamentale, lo subisci... Intanto penso che ci sarà un calcio a tutto a braccio della bianca, non ci saranno altri tiri. Anche perché la partita si sta scivolando via. Calcio a tutto braccio. Attenzione a entrare poco, potrebbe portare sfortuna. Non è entrato uno zero completo. La cosiddetta muta, nel gergo anche nostro. Un'altra biglia perfetta da parte di Marco Merloni. C'è un calcio del pallino a un giro che si è preso, uccide la partita. Prossimo C, che ha un pallino che gli può consentire... per tornare vicinissimi all'avversario. Otto punti. 42 a 49 per Merloni e Rosa, ma partita assolutamente in equilibrio. Andiamo a vedere cosa combinano questi due ragazzati e terribili di sette crociari. Tiro in difesa! Per fare un tiro che sinceramente sono rimasto allibito. Dio... Grazie a tutti. Dopo qui giocano Bellavita, Angelini, Campeggio Dolzano e nel biliardo 3 Ferri, Tricomi, Pugelli, Conforti. Grazie. Grazie a tutti. Dovrebbe aver preso il punto. Enrico Rosa arriva un po' nel gioco, attenzione era il palo sfortunato. Però forse muove il pallino e segna. Non è così. Bastava prendere un cappello della bianca e avrebbe fatto il punto, ma così non è stato. Si chiede però la misurazione dell'arbitro. E noi torniamo dall'altra partita. Dove hanno fatto una mano in vacanza, si può dire. Noi dopo per i quarti di finale lasciamo senza commento. Commentiamo finale e semifinale perché, vabbè, abbiamo 92. Però se viene una partita lunga è un casino. Giusto. Franceschini sta pensando di bocciare quel pallino per lasciarlo morto in sfonda bassa e magari fare anche silotto. Ha guardato se gli dà fastidio le biglie sotto di lui, decide di bocciare di braccio. Importantissimo. Prendere bene il pallino in maniera che la sua si accartocci molto in alto. Va benissimo. Alla fine sarà uno di colore. Va benissimo. Scusate, uno di colore può sentire. C'è una lunga corta di quella bianca che a destra viene fatta sicuramente. Certo, quindi... Nel frattempo l'ennesimo dodici del Master Reggiano chiude la partita. Un pochino, diciamo così. Bene vinto i gualandri. I gualandri fatti punti tutte le volte che ha alzato il braccio. Invece un tiro di schiaffo perché serve qualche punto importante. Tiro di schiaffo per Pino De Simone. Attenzione alla raddrizzata. Attenzione al ricciolo. Passa un cappello. Saranno due di colore 4 e 2 e 6. Potete venire qualcosa in più stavolta? Non è venuto lo schiaffo, diciamo la verità. È venuta una raddrizzata, possiamo chiamarla così. È venuta una raddrizzata di calcio che si vede pochissimo. Certo. Diciamo che il tiro non è stato indovinato. Ci serve solo una biglia da togliere ma è impossibile togliere. Ci sono 6, 4 più 2 e 6. Tanto lascia il punto in maniera incredibile Zofori. Ci saranno tre punti per Enrico Rosa che allunga. Tanto noi ci chiamiamo Angelo Corbetta in questa bocciata fondamentale per cercare di rientrare in partita. Mentre Enrico Rosa riproverà di allungare. Non è inquadrato. Anzi, viene inquadrato adesso e trova il 12. 6, 4, 4, 2. Angelo Corbetta 10 punti. Un bel 10. E stavolta è incredibile. Abbassa il pallino Angelo Corbetta. Sì, perché il pallino è sempre stato in giro per il bigliardo e fondamentalmente hanno sofferto. E' certo che se Angelo Corbetta tenta di abbassare il pallino c'è qualcosa che non quadra, posso dirlo? Certo, ma non tutte le partite vengono uguali. Diciamo che fondamentalmente la differenza in questo momento lo fa. Un tiro alla Corbetta fatto da Tajoli. Che ha portato 16 punti. E si infilla soprattutto. E' stato un bel bigliardo. Guardate cosa succede. Se questo tiro di trasconde di seconda colpire la bianca, il pallino è un draverso e birino. Probabilmente non è sempre domenica neanche per Angelo Corbetta. E' un tiro che si deve guadagnare. Nel senso che va fatto in maniera, a dire, poco perfetta. Trasponde veloce, colpito, entra troppo. Non ci sono punti. Naturalmente il gesto di schiesa del giocatore ex Com, ex Angelo, ex Perugno. Ma direi adesso porli vedere tutti gli effetti. E' molto importante aver recuperato il punto. Cerca di entrare sulla propria. La sua biglia rossa per fare il punto. Vediamo. Sembra aver segnato. Così è infatti. Di giocatore. Giocatore da scuola Bigliardo. Grazie. Lo prendo i giri. No, scappa via. Giocatore da giocare. No, scappa via. Ciao, scappa via. Io viate la scuola. No, scappa via. Alla fine c'è il circondario delle bianche, ma credo che il punto è preso, è bianco? Il punto è bianco, cioè dovrei dire che il pallino è un po' circondato? Sì, direi proprio di sì. A me piace il tiro che guarda Merloni a risalire dalla parte bassa di là. Diciamo che il pallino dovrebbe andare verso le rosse. No, e se la palla entra nel cuneo, va per forza a colpire il pallino e alzare la bianca, dovrebbe rimanere punto rosso. Forse anche di più di una biglia, forse anche due biglie. Basterebbe una. Certo, però può anche succedere quella combinazione. Attenzione, i signori di Sette Crociari hanno fretta, calcio tutto braccio del pallino. E soprattutto vogliono schiacciare l'avversario, ma attenzione. Entra troppo Jacopo Taglioli, vediamo la raddrizzata, nulla di fatto, probabile punto rosso. Beh, devo dire che stanno cacciando al vento una partita. Spettacolo, tiro straordinario. Al fine, due biglie. Mamma mia. I due vecchietti lì. Attenzione che si rischiano delle querele tra i vecchietti, eh. 6742, Enrico Rosa la bocciata. Due punti, vediamo, non dovrebbe venire avanti, ma non di polto. Questo era un filato che se veniva dato dal biliardo era veramente quasi contro natura, possiamo dirlo? Ok, sei se. Ah. risponde a 1 di 4 cambio palla tutti a scuola dal signor Merlone spettacolo ogni tanto una palla si potrebbe anche sbagliare tirarle tutte perfette io credo che per gli avversari se uno tira sempre perfetto sia difficile provare di vincere buona Massimo Cicali non si poteva fare di più deve pizzicare il pallino vediamo è corta mi sa rimane bianco andiamo a vedere la situazione di gioco viene richiesta la misurazione comunque non si fida dice arbitro rivedibili rivedibili diciamo così il punto è rosso infatti non è una buona notizia per i giocatori si perché spenderanno l'ultima intanto noi rimaniamo su Maurizio Zoffoli che dovrà prendere tutto il punto ma mettersi bene possiamo andare in fondo difficile andare a vedere perché siamo molto distanti perché siamo molto distanti comunque il punteggio è 79-42 match ball Salvatore Lottito sullo sfondo per entrare nei quarti e chiude di giustezza quindi Sauro Casadei e Salvatore Lottito ai quarti di finale a giri attenzione se la palla cala ancora un po' rimane bianco addirittura due biglie forse tre no due biglie brutto errore fondamentale questo no andiamo a seguire questa bocciata questo pallino semi regalato a Luca Franceschini intanto attenzione che Luca Franceschini sente l'odore del sangue ma trova solo un berillo 65-65 47 massimo Cicali di contro ha bisogno assolutamente di un pieno per rientrare rimpalla e beve 10 si chiude probabilmente la partita si a questo punto la partita è assolutamente finita andiamo andiamo a vedere questo finale che promette bene ancora delle sorprese trasponde per Luca Franceschi naturalmente solo per il punto sembra un ottimo cambio biglia è perfetta grande biglia di Luca Franceschini che stava attenzione un 16 trovato sul lampadario dal signor Cicali di Poggi Borsi secondo me aveva tirato la biglia però quasi 60-79 aspettiamo ancora inquadrare Enrico Rosa punto buona biglia attenzione che adesso con 20 si va fuori io direi se ci fosse un missile terraria dritto per dritto non nuovo soffoli a questi tiri l'ho già visto più di una volta riuscire a fare un tiro incredibile pensato un po' tirerà un missile dritto per dritto sono convinto anch'io anche perché la partita è andata e bisogna rubarla di Poggi Borsi andiamo a vedere il tiro di Angelo Corbetta due sponde a cercare la doppia carambola ma non scappa via anche una rossa due sponde per Pino di Simone attenzione che bisogna prendere il pallino attenzione che bisogna prendere il pallino punto rosso ma ha rischiato la vita andiamo a vedere se Maurizio Sofrica ha deciso un tiro extraterrestre entra troppo e consegna i quarti di finale agli avversari a meno che non faccia 20 con l'ultima palla certo sarà un missile terraria nel pallino colpirlo di caldo ripongono le boccette non basta il filotto ci vuole anche di ammazzare un altro birello vediamo nulla di fatto finisce la partita quindi Merloni e Rosa sono ai quarti di finale diciamo prestazione straordinaria di Marco Merloni non da meno rigorosa ma Marco Merloni è un altro spettacolo allora adesso avremo un Casadello Tito contro Rosa Merloni quarti di finale altro quarto di finale Beneventi Gualandri contro il vincente di questa partita attenzione che però oggi falloso nella bocciata stranamente 69 a 50 per Taglioli Franceschini mentre nella parte bassa del tabellone abbiamo Bellavita Angelini contro Campeggio Dolzani sarà la prossima partita di questo biliardo e Ferri Tricomi contro Pugelli Conforti nel biliardo a fianco quindi annunciamo fin da ora che senza il commento nei quarti di finale visualizzeremo queste due partite ma per quanto riguarda semifinale finale ci sarà di nuovo il commento di nuovo di nuovo a a Grazie a tutti. Terza biglia, Pino De Simone. Se la biglia sarà perfetta, sarò in difficoltà a prendere il punto e adesso è dura. Molto dura adesso. Infatti, infatti, certo, esatto, che tirare all'altra bianca non ha nessun senso, assolutamente stretto. Parallelmente c'è il doppio rimpallo e così è. Diciamo che questa biglia era meglio tirarla di braccio, a braccio libero. C'è sempre ancora il stesso problema, il doppio rimpallo. Torino-Palermo 3 a 1. E' un po' di Genoa 0 a 2. Cagliari-Inter 1 a 5. Atalanta-Fiorentina niente a niente. Crotone-Sasuolo niente a niente. Brescia 0, Verona 1. Infatti mi piacerebbe da morire il Verona. Brescia è una squadra che... Quando gioca con le buone non vince mai. C'è ancora quindici partiti. Posizione da gatta buia. Non semplice, è riconquistante. Ultima biglia per la coppia 7 crociali. E deve cercare ancora di fare quel titic. No, prova di tirarla su e mandarla via, guarda. Ha tirato molto, molto bene. E adesso problemi. Niente, si tira contro la nostra biglia. Ho capito, bisogna anche essere fortunati. Tanto c'è solo quel tiro. Non ce ne sono altri, no, di sicuro. Il pallino da lì non si muove. Praticamente in prigione dentro la buca. Diciamo l'angolo perché la buca non c'è. Angelo Corbetta, bisogna riprendere pieno la biglia rossa. Intanto per i campionati polgiani... Non vai in là, rimane bianco. Attenzione. Potrebbe averlo preso, con un colpetto fortunato. Se l'ha preso è fortunato, ma non l'ha preso. Punto è bianco. Dove andare più contro la sponda. Intanto conosciamo tre dei quattro semifinalisti capiretti italiani di seconda categoria, a coppie. Nella parte alta, Zanardi e Muzzarelli aspettano il vincente di Cicognani e Ravaglio con Fornasari e Marani. Intanto Luca Franceschini ancora filotto. Troppo punti. Mentre nella parte bassa del tabellone, Ferri e Belleggia, che noi conosciamo bene, perché l'abbiamo visto più volte all'opera con Azzolino, incontreranno Malaspina e Piras. Quindi potrebbe essere anche un derby bolognese in semifinale. Potrebbe essere un derby bolognese, sì. Mentre di là c'è un derby Marche Liguria. Diciamo che ci auguriamo che ci sia un derby bolognese. Sì, ma per adesso non so nulla. Adesso provo ad informarmi. C'è calcio a tutto braccio per Angelo Corbetta. Sì, ormai la partita è andata. Bisogna trovare dei punti. Disperatamente entra troppo. Attenzione, la palla prenderà il punto, andrà sotto Castello, ma nessun vantaggio. La partita è assolutamente precipitata. Troppi errori da parte della coppia forlivese che adesso devono inventarsi un calcio della palla bianca, mandarla sui birilli sopra Castello. E questo è un tiro che deve fare Angelo Corbetta. Tre sponde, sembra sulla rossa. Infatti è sulla rossa. Calcio della propria. I torri di coda. Cosa fare? Un messi laterario sul pallino ci vuole 30 punti in due tiri. Estremamente difficile pensare che succeda, anche se qualche volta succede. Attenzione al pubblico presente. C'è un missile terraria sul pallino di prima. Bisogna inventare un tiro importante. Se no si stringe la mano all'avversario. Devono cadere almeno 10 punti. Se no non c'è più nessuna possibilità. Attenzione. Attenzione. E sono 20. E vi garantisco una cosa che siccome glielo dovreste fare più di una volta, non è assolutamente un tiro fortunato. Lui è più bravo di tanti altri. Sì, sì, lui a fare il colpo in testa e forse fare i primi dettagli. L'ho visto assolutamente altre volte. Poi non viene tutte le volte, naturalmente. Vabbè, è un tiro che... E lui sa fare. Diciamo che come il tiro da 20 metri nel basket, possiamo dire così, ecco. E adesso l'ultimo missile, dopo sarà per Pino De Simone. Niente, che potrò fare. Bisogna mettere la palla dietro il pallino o sponda? Ricordiamo che adesso con 12 si va fuori. 12 non è un tiro facile. No. Anche adesso, perché quella rossa porta via tutti i calci. Naturalmente quello che viene pure più dello schiaffo, che del calcio del pallino si stacca da sponda, è vero? Se no, carri bene la tua palla contro la sponda, prendi lo schiaffo. Certo che anche solo 12 secondi fa non pensavano di essere messi così. Assolutamente, pensavano quasi di aver vinto, diciamoci la verità. Era già il bar a bere. Certo che anche solo 12 secondi fa non pensavano di essere messi così. Certo che anche solo 12 secondi fa non pensavano di essere messi così. di essere messi così. stanno guardando adesso attenzione sono indecisi sul da farsi non vorrei che l'acido lattico prevalesse sulla ragione non ci sono altri tiri in questa posizione si va dietro il pallino dalla parte sinistra cerca di coprire la palla a sponda il più possibile non ci sono altri tiri tutti gli altri tiri andare a cercarsi qualche guaio la partita è assolutamente in tasca se l'avversario fa 12 gli si dice bravo grazie 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 vediamo ancora indeciso forse si è convinto di andare a punto capito ma secondo te lui è convinto andare appunto farò che andare dietro pallino gli altri fanno fatica a far 12 se lui mette la palla a sinistra del pallino cioè alla sua destra non c'è più tiro a quel punto è probabile che ci vuole un miracolo simone tira la palla sotto stanno pensando dei tiri assolutamente che non ci sono nel gioco del biliardo e attenzione alla fine naturalmente è obbligatorio fermarsi a sponda non si va con schiaffo è molto corta molto corta cortissima buon per franceschini che si riesce ma attenzione che ci sono i due giri e adesso non c'è tanto vantaggio anche perché il pallino da raccolpire la rossa per cui attenzione tanto la partita è andata bisogna rubarla c'è poco non c'è alternativa naturalmente adesso misureranno di sopra di sotto destra sinistra ma tanto la quello che decidono è la buona sorta sono lì dei del biliardo che decideranno chi andrà a sfidare beneventi e gualandri grazie a tutti vediamo pino de simone un conto è vedere un conto effettuarlo e eseguirlo perché te arrivi a 17 metri dalla porta di calcio e ce la metto all'incrocio dei pali ma non è così detto può anche andare fuori comunque vediamo l'ultimo tiro di questa partita ma con lo schiaffo attenzione e vincono tagliole franceschini con il dramma grazie a tutti 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 c'è grazie a tutti 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 a tutti grazie 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti